Se può sapere che c'hai in quella testa vuota te? Qua fare? Sta zitta! Mannaggia! Tu pensa a portare i soldi a casa e dare una mano a sti incapace di tua madre? Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me? Quello è uomo, no? Alla fine dei conti devi hai una brava donna di casa. Perché mi hai levato le mani? Lui è poi meno sempre. Se non si abitua. Una. Ma forte. Hai visto gli americani quanto sono belli? Ci hanno tutti i denti. Ma tanti. Più di noi lo sa. Tutti dovete schiattare. Perché mi piace sposare un signore e non un pezzente come voi. Ammiserabili! Se penso che il calmo dell'andrencio sarà più una donna da entra a sta casa. Me ne vento ogni mattina da 30 anni. Lo so distratto un attimo e quello ti sei rubata. Che m'hanno imparato a scuola? Ammo fatto i felici. Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli. Quali sono i finicotteri? L'uomo lo devi scegliere bene. Giulio è quello giusto. Ma non lo so. Dimmo te. E tu sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi ti ha detto? Lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi. Sono i sordi tua. Ci sta la posta. È per voi. Pensa ai figli. Pensa a Marcella. E a provarle che penso? Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come ho capito io? Deve non essere il tempo. Ma dove sei Anna? Pure di Anna. Prove di Anna participazione comunallari come potreste Planters passate a